Ciao ragazzi, continuiamo a correggere gli esercizi di traduzione sui verbi semideponenti. Allora, leggiamo la frase 4. Soles non nunquam acdere a me in disputazione bus nostris dissentire. In questo caso i verbi sono due, soles e dissentire. Sottolineo soles con una linea retta, perché è un verbo di modo finito, dissentire con una linea tratteggiata, perché è un verbo di modo indefinito, un infinito. E parto da soles, in quanto verbo di modo finito, lo analizzo, modo indicativo, tempo presente, seconda persona singolare attivo, da soleo, soles, solitus, un solere. Quindi tu sei solito. Cerco un nominativo singolare che non trovo, perché molto spesso il soggetto, quando il verbo di seconda persona non viene espresso, è sottinteso, quindi soggetto sottinteso, tu sei solito. In italiano, come in latino, il verbo soleo, essere solito, regge l'infinito, quindi tu sei solito dissentire, tu sei solito essere in disaccordo. Riguardo a cosa? Mi chiedo acdere, questo è il complemento di argomento, con ac che deriva dai che coca, è l'attributo di re, che è l'ablativo di res rei, e de che introduce appunto il complemento di argomento, de più ablativo. Quindi è come se il de fosse qui, de a cre, riguardo a questa cosa, riguardo a questo argomento. Quindi tu sei solito dissentire, riguardo a questo argomento, dissentire rispetto a cosa, rispetto a chi? Dissentire da me, a più ablativo, vedete, a me, dissentire da me, o essere in disaccordo con me, in disputazione, bus nostris, nelle nostre discussioni, in più ablativo. Nonunque a me è un avverbio, un avverbio di tempo, e significa ogni tanto. Questa frase è una frase di Cicerone, tratta dall'oratore, ed è una frase che viene tratta da un passo in cui Cicerone si rivolge a suo fratello Quinto, secondo il quale bastava la sola natura, aiutata dal frequente esercizio, a formare l'ottimo oratore. Cicerone, invece che appunto talvolta era in disaccordo con il fratello, sosteneva che senza il possesso di vastissime cognizioni, quindi senza una grandissima cultura, senza uno studio ostinato e approfondito, non si potesse fare nulla di grande, non si potesse diventare un ottimo oratore. Passiamo alla frase successiva. Questa è una bellissima frase di Seneca, i verbi sono sunt, audemus, audemus di nuovo e sunt di nuovo. Come vedete è una costruzione chiastica, sunt, audemus, audemus, sunt, costituiscono una sorta di x, di chi, lettera greca, quindi come vedete c'è una costruzione retorica. In questa sentenza senecana vediamo che il primo sunt è introdotto da quia, che è un nesso subordinante e introduce una subordinata causale, così come il terzo verbo, audemus, anche questo introdotto da quia, quindi due causali e una principale, non audemus, e una coordinata alla principale, sunt difficilia. Questa coordinata sunt difficilia è introdotta, cambiamo colore, se si può, no, non proviamo con il nero, dal sed. Bene, quindi partiamo dalla principale, non audemus, di nuovo audemus deriva da audio, audes, aususum, audere, significa usare, quindi non osiamo, c'è la verba di negazione che lo precede, non osiamo, multa, multa è un accusativo neutro, plurale, di un aggettivo sostantivato, multus, multa, multum, quindi non osiamo molte cose, non perché, quia, queste cose, sunt, sono, difficili, difficilia è la parte nominale, quindi un nominativo neutro, plurale, riferito chiaramente a multa, quindi non osiamo molte cose, non perché sono difficili, ma sunt difficilia, perché chiaramente questo sed congiunge non audemus con sunt difficili, ma sono difficili, il soggetto è sempre multa, molte cose sono difficili, poiché, quia, non audemus, non osiamo farle, ovviamente, sottinteso, va bene? Quindi questa frase è una frase tratta dalle epistole all'ucilio di Seneca e in particolare da una lettera che, diciamo, il cui contenuto è anche molto attuale, perché in questa lettera Seneca racconta di essersi ammalato, di aver avuto una febbre, di essere stato costretto da questa febbre a lasciare Roma, lasciandosi quindi alle spalle, chiaramente, l'aria pesante della città, per recarsi al momento, dove immediatamente dice di aver recuperato le forze e in che modo? Gettandosi a capofitto nello studio. Seneca dice quindi all'ucilio, se vuoi liberarti dai tuoi affanni, non devi trasferirti altrove, cioè non basta spostarsi, non basta viaggiare, ma devi diventare un altro. Quindi ogni giorno, ogni ora che passa, ti cambia e il viaggio in sé non reca giovamento da solo, certo ci distrae momentaneamente, ma non è mai una cosa risolutiva, perché il viaggio non ti rende migliore. Invece è lo studio, è allo studio che bisogna dedicarsi per avere familiarità con i maestri di saggezza e apprendere da loro i frutti della loro esperienza. Quindi fuggire non serve, perché i mali che fuggiamo sono fondamentalmente dentro di noi, secondo Seneca, ma bisogna studiare per trovare nei saggi del passato, nelle persone che più di noi hanno compreso la verità che si cela dietro alla nostra esistenza, rivolgersi a loro per capire come migliorarsi. Questa sembra chiaramente una sfida difficile, ma sembra difficile perché non ci cimentiamo nell'impresa, non osiamo tentare. Quindi non è che non osiamo farlo perché è difficile, ma è difficile proprio perché non abbiamo il coraggio di farlo, perché non osiamo farlo. Questo è il significato della sentenza di Seneca.